Camilla, sono tre anni che non stiamo più insieme e io sono fidanzato, sono gay. Magari è temporaneo, succede a tutti, è un periodo. Per Antonio e Paolo. In Italia? Eh, così finalmente conosco mamma e papà. I miei. È arrivato il momento della verità. Eccovi! Paolo. 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 Benedetta, piacere. E lui è donato il nuovo inquirino di Berlino. Senti. Senti. No, ma non si preoccupi, accade. Donato la popa. Ci siamo conosciuti facendo musical, eh? Hai fatto il musical? Perché non le piace il... No. È la versione gay del teatro. Ora. Ma poi scusa, mi avevi detto che tu lo sapevano, che... Serviranno amici fidati. Abbiamo un sacco di cose in comune, facciamo un figlio. Una famiglia dalle idee aperte. Il mondo va verso l'integrazione, tutto il mondo. E tanto coraggio. Noi ci vogliamo bene. E abbiamo deciso di sposarci. Bella, è uno scherzo. Se non hai deciso di celebrare tu il loro matrimonio, te ne puoi anche andare da questa casa. Ma non eri tu che dicevi che questo è un paese che accoglie tutte le persone? Intendevo... Insomma, turisti, profughi. Lascia le chiavi di casa. A marzo. Anto, mia madre non ci verrà mai a questo matrimonio. Siete tutti invitati. Lo faccio io. Che cosa? La mamma di Paolo. Al matrimonio dell'anno. Ragazzi, sarà un tripudio. Ma a volte le cose impossibili diventano possibili. Puoi baciare lo sposo. Anto, sono tutti quanti bravi a fare gay a Berlino. Dal primo marzo al cinema.